uno dei posti più iconici di arco è sicuramente l'eremo di san paolo una piccola falesia è molto difficile e la cosa che mi piace molto anche che veramente vicino a casa infatti parecchie volte siamo andati anche in bicicletta in falesia dopo aver salito le vie più difficili della falesia ho intravisto questa nuova possibilità ovvero di unire le due vie storiche di sant'angher e zauberfi per provare a creare qualcosa di nuovo e più difficile ho anche messo il mio primo speed per unire le due vie e dopo qualche giorno di tentativi sono riuscito finalmente a salire questa via che ho deciso di chiamare beginning a salire 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 Musica Ho deciso di chiamare questa via Beginning perché per me rappresenta un nuovo inizio dopo un periodo difficile sia dal punto di vista della vita quotidiana ma anche dell'arrampicata. Musica Musica Musica